Ancora terzo convegno di Education 2.0, un nuovo ospite, il professor Luca Papini di Livorno. Sì, buongiorno. Salve, maestro. Ci può spiegare qual è la sua esperienza, il titolo e in sintesi come si è sviluppata nel corso dell'anno? Si tratta di un libro game che si intitola Due Isole per un Cielo. È un'esperienza di costruzione di un libro svolto con la classe quinta B della scuola primaria di Villa Corridi a Livorno. Il progetto si è sviluppato in tre mesi, nei quali abbiamo trasformato l'aula in un laboratorio di scrittura. I bambini, dopo aver visto un cartone animato di Ayao Miyazaki, Laputa, il castello nel cielo, hanno riscritto completamente la storia. Ok, quindi un progetto che parte da un medium che è tradizionalmente guardato con sospetto, che è il cinema, soprattutto il cinema di animazione, perché è collegato molto spesso alla distrazione, quindi al mondo dell'apprendimento non formale nel caso. In che modo invece siete riusciti a trasformare questo prodotto di animazione in un input creativo, in pratica? Noi abbiamo innanzitutto fatto un'analisi critica delle sequenze narrative del cartone animato, focalizzandoci su dei nuclei narrativi più forti, quindi i due personaggi, il personaggio maschile e femminile, i due bambini che sono i protagonisti della storia. Successivamente abbiamo posto l'attenzione sui luoghi dove la storia si svolgeva e abbiamo iniziato a scrivere questo che è un libro un po' particolare perché è un libro game, un libro dove il lettore deve scegliere i propri percorsi narrativi, per cui costantemente i bambini quando scrivevano la storia si ponevano la domanda di dove far andare il lettore perché la sequenza della storia salta un po' di pagina in pagina. E quindi dentro questa storia ci sono anche dei momenti in cui il lettore è preso in castagna, finisce in un game over e è costretto a ritornare a leggere le narrazioni precedenti per riuscire ad arrivare alla fine della storia. Interessante, quindi l'organizzazione della lezione, in questo caso della lezione ricreazione, come attività di smontaggio della storia per capire come funziona la narrazione. La domanda è questa, questa attività creativa ha avuto degli effetti collaterali nei bambini, quindi si sono appassionati maggiormente alla lettura da lettori, ora che sono anche un po' autori? Allora, intanto ogni volta che scrivevamo un nucleo narrativo, successivamente occorreva rileggere quello che avevamo scritto per poter poi scegliere quali percorsi narrativi riaprire. E quindi è un percorso di scrittura e rilettura di ciò che avevamo scritto fino a quel momento. Poi all'interno della classe c'era anche una bambina che era dislessica, per cui procedevamo nella costruzione del libro privilegiando molto l'aspetto orale. Quindi c'era un bambino che scriveva la lavagna, il resto della classe che componeva a livello di immaginazione collettiva il percorso narrativo e in conclusione io scrivevo al computer la storia che loro stavano animando sulla lavagna in modo da averla sul digitale. Questo permetteva al docente di avere un ruolo secondario, un po' dal regista esterno e permetteva ai bambini di togliere la penna dalla mano e di usare soprattutto il racconto orale in modo tale che questa bambina potesse trovare anche lei il modo di essere integrata in questa esperienza. Interessante, quindi un racconto collettivo che crea classe. Con questa immagine ringraziamo Luca Papini e continuiamo con le nostre interviste sempre a Education 2.0.